Sassano, una lista per le prossime elezioni comunali. Sassano Sipuo di sindaco Tommaso Pellegrino, apertosa, tre liste in campo. Festa dei lavoratori, dati Istat, aumenta la disoccupazione, questione di fiducia su legge elettorale. Primo maggio, San Giuseppe Lavoratore, a Teggiano, inaugurata via Codaglioni, a Atena Lucana ai 150 anni della parrocchia. Teggiano, il pomponio leto compie 50 anni dalla sua nascita, presentazione del libro scritto dal prof Giuseppe Manzione e attestato di benemerenza per Michele Albanese. Buon abitacolo, nuovo corso per l'oasi naturalistica di Rio Freddo, stamane presentazione iniziativa. Buonasera e ben ritrovati a tutti i nostri telespettatori. Iniziamo con la cronaca. Un arresto e due persone denunciate per guida senza patente, oltre a numerosi controlli su tutto il territorio. Il bilancio delle ultime 24 ore dell'attività della campagna dei carabinieri di Sala Consilina. Continuano le attività della compagnia dei carabinieri di Sala Consilina guidati dal capitano Emanuele Corda, che nelle ultime 24 ore hanno eseguito un arresto in esecuzione di un ordine di detenzione e denunciato due persone per guida senza patente. In dettaglio, i militari della compagnia di Sala Consilina hanno tratto in arresto, in esecuzione di un ordine di detenzione domiciliare, un 45enne del Vallo di Diano, resosi responsabile negli anni passati del reato di resistenza pubblico ufficiale. L'uomo ora deve scontare circa otto mesi di reclusione in regime di detenzione domiciliare. Sul fronte del controllo alla circolazione stradale, sono state denunciate due persone per guida senza patente, in quanto revocata gli dalla Prefettura. Inoltre, con l'ausilio del nucleocinofoli antidroga di Sarno, sono stati presidiati gli svincoli autostradali, con l'identificazione di quasi 100 persone. Nel corso dei controlli non sono stati rinvenuti stupefacenti, ma sono state elevate diverse contravvenzioni per guida senza cintura. Entrò oggi alle 12 la presentazione delle liste per le elezioni regionali e comunali. Nel Vallo di Diano, Sassano, unico comune interessato, dà il voto per il rinnovo del Consiglio Comunale. E già si conosce il prossimo sindaco. Sarà Tommaso Pellegrino a guidare il Paese per altri cinque anni. Resta da stabilire come sarà composta la Giunta e il Consiglio. La lista Sassano si può, con candidato sindaco Tommaso Pellegrino, è composta da Capuano Antonio, Cavallone Vito, D'Amato Antonio, De Luca Michele, Esposito Gaetana, detta Tania, Fornino Domenico, Giordano Giovanni, Petrizzo Luigi, detto Geggè, Russo Gianfranco, Russo Maria, Spano Gaetano e Trotta Mario. A Pertosa, invece, sorpresa alla presentazione delle liste, cerca il terzo mandato l'attuale sindaco Michele Caggiano, che guiderà la compagine L'Ulivo per Pertosa, in cui figura anche l'attuale vice sindaco Domenico Barba e altri componenti della precedente legislatura. La seconda lista ha come candidato il giovane Vito Panzella, classe 1988, Pertosa Attiva, mentre una terza lista, presentata addirittura nella giornata di ieri, che porta il nome di Democrazia Corporativa Socializzazione, del quale non si conosce nulla. E ancora, questa mattina la presentazione delle liste anche per le elezioni regionali in Campania del prossimo 31 maggio. Nel Vallo di Diano, due i candidati a sostegno di Stefano Caldoro, quattro a sostegno di Vincenzo De Luca e uno con Salvatore Vozza. Questa mattina, alle ore 12, presso la Corte d'Appello del Tribunale di Salerno, presentate le liste ufficiali dei consiglieri regionali a sostegno dei candidati alla carica di governatore della Regione Campania. Tanta suspense nella mattinata in attesa della presentazione della lista del Partito Democratico, che a poche ore dalla scadenza ha visto il mancato inserimento del candidato Odati, che al fotofinish si è ritirato dalla corsa. Il PD ha quindi dovuto effettuare velocemente la sostituzione, in extremis ha inserito Ciotti. Facendo il punto più in generale, sono sei in corsa per la carica di Presidente della Regione Campania, oltre all'uscente Stefano Caldoro, Vincenzo De Luca, Salvatore Vozza, Michele Ciliberti, Valeria Ciarambina e Mario Esposito. Sei è anche il numero delle liste nella provincia di Salerno a sostegno del candidato Stefano Caldoro. Per il Vallo di Diano troviamo candidati a sostegno del governatore uscente con Forza Italia, Valentino Di Brizzi, mentre nella lista Caldoro Presidente, Maria Citarella. A sostegno del candidato per il centro-sinistra, Vincenzo De Luca, nella lista del Partito Democratico, troviamo Donato Pica, consigliere uscente e proprio appartenente al PD. Per il PSI, Luigi Giordano. Nella lista dei Verdi, Francesco Antonio Dorilia. E nella lista Italia dei Valori, Maria Vespoli. Presente inoltre nelle file di sinistra al lavoro, Roberto De Luca, a sostegno del candidato alla presidenza della Regione, Salvatore Vozza. Giovedì scorso è iniziata ufficialmente la campagna elettorale di Luigi Giordano per la corsa alle elezioni regionali alla carica di consigliere. Presso l'aula magna delle scuole elementari di Sala Consilina, il candidato al Consiglio regionale ha presentato il suo programma e il partito per cui corre. PSI per De Luca. Credo che sia arrivato il momento che il nostro territorio guardi un poco intorno a sé perché per tutti questi anni anche le logiche politiche, le forzature che sono state fatte alla politica, penalizzando naturalmente il nostro territorio, comportano nello stato d'animo di ognuno di noi un modo di pensare come revancismo, come vendetta ad una politica che fino ad oggi a livello regionale ci è stata negata. Purtroppo il nostro territorio ha un gap notevole rispetto al nord della provincia dove demograficamente vi sono 300.000 abitanti e questi 300.000 abitanti, forse anche di più, arriviamo quasi a 500.000, nella logica della nuova politica sono coloro che debbano beneficiare rispetto a noi di più servizi perché purtroppo la politica oggi è diventata nel rapporto costi-benefici quello che premia. Però la verità è che noi, anche avendo una popolazione di 70.000 abitanti, non abbiamo avuto quelle occasioni, quelle attenzioni che hanno potuto dare sviluppo serio al nostro territorio. Tanto è vero che oggi con la crisi si sente ancora in modo pesante questo grande problema. Oggi bisogna alzare la testa, bisogna pensare ai candidati del Vallo di Diano e chiaramente la gente dovrà valutare, dovrà valutare chi fino ad oggi ha garantito il nostro territorio, chi lo potrà garantire e questo non lo si fa soltanto con le chiacchiere, si fa con la propria storia. I dati emersi dall'ultima indagine Istat sullo stato del lavoro in Italia non sono assolutamente confortanti, come non lo erano lo scorso anno. Ciò che però preoccupa è che dallo scorso anno si registra un aumento della disoccupazione giovanile e della disoccupazione in generale, con un aumento del debito pubblico. Intanto il Governo pone la questione di fiducia, istituto utilizzato per provvedimenti urgenti e necessari per il Paese sulla legge elettorale. Anche quest'anno la festa dei lavoratori è stata l'occasione per festeggiare la disoccupazione. I dati presentati dall'Istat nei giorni immediatamente precedenti alla festa del 1 maggio non hanno lasciato dubbi sul continuo aumento dei disoccupati e della disoccupazione in Italia, accompagnata da un sempre crescente numero di aziende private che chiudono e da un continuo aumento della pressione fiscale che sta mettendo in ginocchio un intero Paese. I messaggi che giungono da chi sarebbe chiamato ad intervenire per realizzare una brusca e decisiva inversione di marcia, però pur essendo pieni di speranza, sembra non producano l'effetto sperato e le statistiche smentiscono le promesse. In questi giorni stiamo assistendo ad un lungo batti e ribatti che vede i parlamentari chiamati ad occuparsi della nuova legge elettorale, protagonista sulle pagine dei quotidiani con il governo Renzi che con propria soddisfazione incassa la fiducia del Parlamento. Ricordiamo che il voto di fiducia dovrebbe essere richiesto in caso di provvedimenti urgenti e necessari per il bene del Paese e serve prevalentemente a ricompattare la maggioranza. Ponendo la questione di fiducia, il governo chiede che la legge in discussione venga approvata dal Parlamento così come concepita, senza modifiche né emendamenti. Insomma, un'imposizione che di fatto annulla ogni possibile confronto. Alla vigilia della festività del primo maggio, festa dei lavoratori che da alcuni anni porta in piazze disoccupati, il Parlamento era chiamato a decidere sulla questione urgente e fondamentale per il Paese della legge elettorale voluta dal governo Renzi. È stata l'onorevole Mara Carfagna, portavoce alla Camera per il Partito di Forza Italia, a parlare e ricordare all'Aula i dati dell'Istat sulla disoccupazione. Ma voi lo sapete che mentre noi siamo immersi qui in un dibattito surreale che poteva svolgersi in altro modo, poteva concludersi anche prima e meglio se solo ci fosse stata la reale volontà politica di scrivere insieme le regole del gioco senza strappi e tracotanza. Mentre noi siamo immersi in questo dibattito surreale, oggi l'Istat ci pone dinnanzi uno scenario drammatico. Voi lo sapete che mentre noi stiamo qui a parlare di legge elettorale la disoccupazione è salita al 13% e la disoccupazione giovanile è risalita al 43% e ci vengono in mente le parole di Renzi che definiva come prioritaria la lotta alla disoccupazione quando a Londra nell'aprile del 2014 disse che la disoccupazione in Italia sarebbe scesa presto nel giro di pochi mesi al 10%. Sono dichiarazioni che non meritano di essere commentate, si commentano da sole. Sono solo indicative della superficialità e della mancanza di serietà con cui il Presidente del Consiglio tratta quelle che sono le vere priorità del Paese. Dal 2014 al 2015 ci sono 70.000 i posti di lavoro bruciati. Non c'è job sack che tenga, non c'è decontribuzione che tenga. Durante il governo Renzi sono stati bruciati 70.000 posti di lavoro e è crollata la fiducia dei consumatori e delle imprese. Cosa diciamo a queste persone che non sono numeri ma sono cittadini che lavorano, che producono, che consumano, che perdono il lavoro, che fanno fatica a ritrovarlo? Cosa gli raccontiamo? Cosa raccontiamo a queste persone che non vedono una prospettiva di fronte all'inadeguatezza delle politiche economiche e sociali del governo? Che siamo qui a litigare sulle regole del gioco perché le regole del gioco vengono prima della disperazione degli italiani? Che siamo qui a litigare perché Renzi ha fatto saltare il tavolo più e più volte? E allora la verità, e ce la dobbiamo raccontare fino in fondo, è che qui la legge elettorale non c'entra nulla. L'unica cosa che c'entra è un regolamento di conti interno al vostro partito e al vostro gruppo parlamentare che va avanti da mesi, da settimane e che voi scaricate sulle spalle e sulla pelle del Paese. Siete degli irresponsabili. Manca il lavoro, le aziende chiudono e se non chiudono hanno l'obbligo primario non di pagare gli stipendi ma di pagare le tasse che dovrebbero servire a ridurre il debito pubblico che però continua ad aumentare. Almeno il governo Renzi ha la fiducia. Il prossimo fine settimana a Sala Consilina, due giorni dedicati alla prevenzione e alla cura del tumore al seno con Sala in Rosa, evento promosso dall'Osservatorio Europeo, il Paesaggio e dalla Scuola Italiana di Senologia. Questa mattina la conferenza stampa di presentazione. Il prossimo fine settimana del 9 e 10 maggio, una due giorni dedicata alla salute con una serie di incontri sul tema della prevenzione e della cura del tumore al seno. Si chiama Sala in Rosa e l'appuntamento che è stato presentato questa mattina in conferenza stampa e organizzato dall'Osservatorio Europeo per il Paesaggio preseduto da Angelo Paladino e dalla Scuola Italiana di Senologia. Una a due giorni caratterizzata da convegni informativi particolarmente incentrati sulla prevenzione ma anche sulla cura delle patologie tumorali del seno. L'evento delle due giornate di sabato 9 e domenica 10 è rappresentato da un full immersion dedicato al tumore al seno e organizzato anche grazie alla collaborazione degli sponsor che hanno contribuito e reso possibile l'appuntamento. come la Banca Montepruno, la GB, Gruppo di Brizzi, Caseificio Campolongo, Shopping Center Cassiopea Conad, Illuminazioni Casillo, Puglia Auto Accessori, Mercedes-Benz e DFL. E fungerà prevalentemente da incontro informativo con gli eventi di sabato 9 alle ore 9.30 sul tema Progetta il tuo futuro senza cancro, lezioni per vincere il silenzio. Sempre sabato ma nel pomeriggio alle ore 16.30 l'incontro sul tema come può uno scoglio arginare il mare. La mattinata di domenica 10 invece sarà la salute in primo piano con visite senologiche gratuite dalle ore 9.30 alle ore 13 presso l'ambulatorio del distretto sanitario in via Gramsci. Si chiama Sala in Rosa, riferita alla nostra città, Sala, ma ci saranno altre manifestazioni. Rosa è anche il colore del palloncino. Rosa è il colore del palloncino perché è una manifestazione che si rivolge innanzitutto alle donne perché il tumore al seno è diffuso, come si può comprendere, fra le donne anche se vi sono casi di tumore al seno fra gli uomini. E questo è il messaggio che questa due giorni vuole mandare. Si può guarire come? Si può guarire innanzitutto attenzionando l'ambiente in cui viviamo. Quindi l'ambiente è intimamente legato alla nostra salute. Se l'ambiente è inquinato, se quello che mangiamo è inquinato, è chiaro che i tumori si diffondono. E purtroppo molti dei tumori, compreso quello al seno, si diffondono per l'alimentazione che noi facciamo e per le condizioni ambientali in cui viviamo. E quindi il 9 a mattina, che è sabato mattina, parleremo di questa malattia nelle scuole. Nelle scuole superiori, c'è l'ITIS, il geometra, l'agricoltura a Sala Consilina con i ragazzi delle scuole superiori per dire loro come si previene, come si può costruire un futuro senza cancro e come si può vincere il silenzio. E ci sarà il dottore Andreoli che indicherà la strada di come la ricerca può benissimo marginare la malattia, la ricerca e gli stili di vita. Il giorno dopo, festa della mamma, sono previste visite gratuite a tutte le donne che vorranno sottoporsi a una visita senologica da parte del professor Andreoli, ma di tutto lo staff medico della Scuola Italiana di Senologia. Quindi l'invito alle donne a partecipare, a partecipare per essere anche sottoposte a questa visita che viene fatta da maggiori esperti a livello nazionale. Abbiamo partecipato con forza a questa iniziativa perché crediamo che la prevenzione sul seno sia obbligatoria per le donne. Per tanto tempo le donne si sono legate presso uno studio medico quando avevano qualche dolore al seno. Noi crediamo che con queste due giornate spingiamo tutte le donne di Sala Consigliere del Vallo ad iniziare da subito una prevenzione per questa malattia che si può sconvincere. Il professor Veronelli si dice che l'alimentazione è una grossa prevenzione a questa malattia che è stata la malattia del secolo. Stiamo pensando di organizzare gli orti di Sala dove i nostri prodotti saranno prodotti puliti e dove sicuramente ci avvicineremo a questa dieta dove non prevedono tanti grassi animali. Il primo maggio è la festa del lavoro e dei lavoratori. In questa occasione si ricorda il più importante lavoratore, San Giuseppe, Falegname e padre di Gesù con il suo bastione fiorito. In due centri del Vallo di Diano si organizzano feste sia religiose che civili a Teggiano e ad Atena Lucana. A Teggiano ieri mattina in occasione del passaggio della processione è stata inaugurata la strada messa in sicurezza in via Codaglioni. Primo maggio festa dei lavoratori ma per la comunità religiosa anche e soprattutto festa dedicata a San Giuseppe Lavoratore. Il Vallo di Diano risponde profondamente legato alla figura del santo Falegname padre di Gesù con ben due eventi festivi legati proprio alla sua immagine. A Pantano di Teggiano e ad Atena Lucana comunità in feste ed in fermento per le celebrazioni religiose e non dedicate a San Giuseppe Lavoratore. L'occasione della festività e ancor più della processione a Teggiano è stata legata ad un importante evento civile. Infatti nella giornata di ieri in occasione della consuata processione partita dalla chiesa di Pantano l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Rocco Cimino ha inaugurato il nuovo tratto di strada di via Codaglioni. La strada, da anni completamente danneggiata, è l'arteria di collegamento con la zona industriale di Teggiano nonché frequentatissima per raggiungere in breve tempo l'uscita autostradale di Sala Consilina. Da tempo ne veniva richiesta la messa in sicurezza. Ieri mattina finalmente è stata inaugurata. Al passaggio della statua di San Giuseppe, in processione, il parroco Don Carmine Tropiano ha benedetto l'arteria su cui è stata ripristinata la percorribilità e a seguire il taglio del nastro con il primo cittadino tegianese. Sullo stesso punto, al ritorno della statua, breve fermata al tavolo preparato dai residenti. Grande soddisfazione per la comunità della zona che chiedeva ormai da anni che il tratto fosse messo in sicurezza visto anche il notevole grado di dissesto che presentava. Come abbiamo sentito, anche ad Atena Lucana, grandi festeggiamenti nella frazione Scalo in occasione di San Giuseppe Lavoratore e i 50 anni della parrocchia. Celebrazioni religiose e spettacoli hanno caratterizzato due giorni di festa. San Giuseppe Lavoratore ad Atena Lucana Scalo, ma anche i 50 anni della parrocchia di San Michele e i 50 anni di crescita della frazione. Ieri, come ogni anno, la comunità di Atena Lucana si è ritrovata nella frazione Scalo a devozione di San Giuseppe, una festività che quest'anno è stata arricchita dal ricordo di quello che era Atena e di cosa è diventato anche grazie alla rapida espansione e crescita dell'area della frazione Scalo, che ha contribuito anche alla crescita economica del paese. Nella mattinata di ieri, la processione con il sacro simulacro che ha attraversato le diverse arterie e contrade della zona, fino a giungere nella chiesa di San Michele, dove è stata celebrata la Santa Messa. A seguire, la processione ha continuato il suo cammino fino alla cappella di San Giuseppe. Tutta la comunità ha partecipato alle celebrazioni religiose, dimostrando una grande devozione verso il Santo. Oltre alla festa religiosa, il Comitato Feste di San Giuseppe ha voluto quest'anno arricchire ulteriormente la festa con spettacoli di divertimento. Giovedì 30 aprile, i giovanissimi talenti del nostro territorio si sono esibiti nell'Atenas Got Talent, con la partecipazione della Pino Pinto Band. Ieri sera grande musica e festa, ma soprattutto tanta comicità. Direttamente dalla RAI e direttamente da Made in Sud è arrivato ieri sera ad Atena Lucana Paolo Cagliazzo, alias Tonino Cardamone, che ha divertito il folto pubblico presente con il suo spettacolo esilarante. Tantissime le persone presenti alla festa di San Giuseppe a Atena, dimostrando come si ritorni sempre più ad apprezzare le festività di piazza, dove musica, colori e allegria fungono da contorno alla fede e alla devozione religiosa. Ascoltiamo le interviste realizzate ad Atena Lucana in occasione della serata conclusiva della festa in onore di San Giuseppe Lavoratore. Sempre è stato bisogno di ridere, forse questo periodo è ancora più accentuato. il divertimento personale è quello di, magari con il sorriso sulle labbra, con lo strumento dell'ironia o della satria, di dire delle cose un po' più importanti. I sogni ce li abbiamo tutti quanti, non bisogna abbandonarli. questa è la dimostrazione che quando si lavora, la nostra soddisfazione è il fatto che l'abbiamo organizzata tutta al sud, quindi veramente Made in Sud non è solo un titolo, è veramente che noi ci abbiamo lavorato, noi, del sud, come imprenditoria, abbiamo organizzato la questione e siamo in Rai e ci guarda tutta l'Italia. Quindi i sogni, per noi meridionali, sono forse più difficili da raggiungere, però quando si raggiungono danno il doppio della soddisfazione. Noi siamo sempre in scena e al sud ce ne sono tante di piazze, per fortuna nostra, ma per fortuna anche della popolazione del sud, perché ci sono sempre dei momenti di aggregazione. Molto spesso oggi ci teniamo un po' a rintanare, cerchiamo di stare a casa, magari gli strumenti social, Facebook o quant'altro, hanno aumentato la comunicazione ma probabilmente l'hanno anche diminuita. probabilmente si comunica senza guardarsi negli occhi, mentre invece le feste di piazza sono un'ottima occasione per far scendere le persone dalle case e di venersi in piazza. Sì, infatti, diciamo, è stata un pochino pensata nel comitato la propria presenza di Paolo Cagliazzo, visto un pochino il suo impegno anche sociale, molto spesso ci sprona ad avere degli atteggiamenti positivi verso la comunità. infatti quest'anno è il cinquantesimo della parrocchia, abbiamo scelto proprio di prendere diciamo un comico di livello nazionale, visto la grande esperienza e vogliamo festeggiare insieme a tutta la gente del Vallo di Diano, infatti sono già accorse tante persone pronte ad aspettare l'esibizione del nostro comico Tonino Cardamone. Sì, vabbè, il comitato fa questo ruolo un pochino di raccolta, di impegno, di portare avanti la festa, però l'ingraziamento grande va alle persone che contribuiscono per la riuscita della festa, quindi con le offerte personali libere che ogni famiglia di Atena e anche le altre persone che sono venute qui alla festa hanno fatto, diciamo, al Santo. Sì, la mostra fotografica che è stata inaugurata lo scorso 19 aprile nella celebrazione di inizio del cinquantesimo della parrocchia, sarà visitabile le domeniche di maggio negli orari serali, diciamo, dopo le 17. Abbiamo in programma nel mese di luglio, scusate, nel mese di giugno un convegno storico dove ripercorriamo un pochino questi cinquant'anni della parrocchia e com'era, diciamo, Atena Scalo negli anni Sessanta quando è stata costruita e pensata la chiesa qui allo Scalo. Ben ritrovati con la seconda parte del nostro Tg, ci spostiamo adesso a Teggiano. Giovedì scorso, presso l'Istituto Pomponio Leto di Teggiano, una festa dedicata ai 50 anni dell'Istituto di Istrizione Superiore. Presso la scuola, i numerosi dirigenti scolastici e i docenti che hanno fatto parte del passato come del presente dell'Istituto Scolastico si sono riuniti in occasione della presentazione del libro scritto dal professor Giuseppe Magnone e promosso dalla banca Montepruno, Il mio Pomponio Leto. All'incontro moderato dal dirigente scolastico Rocco Colombo erano presenti anche il vescovo della diotecesi di Teggiano, Monsignor Antonio De Luca, Antonio Innamorato, ex docente dell'Istituto e anche i dirigenti scolastici di altri istituti presenti sul territorio. Inoltre era presente anche il direttore generale della banca Montepruno, Michele Albanese, da sempre vicino e sostenitore con l'Istituto di Credito delle diverse iniziative poste in essere dagli istituti scolastici a favore degli studenti ed in particolare dell'Istituto Pomponio Leto. Per tale vicinanza, sempre dimostrata all'Istituto Scolastico, con direzione di Rocco Colombo, ha voluto consegnare un attestato di benemerenza con menzione d'onore al direttore albanese. Dopo il ricordo del Pomponio Leto e delle diverse attività in esso svolte, si è passati al buffet e al taglio della torta, curato dalla pasticceria Delia Di Teggiano e del maestro pasticcere Domenico Manfredi. Ascoltiamo le interviste realizzate in occasione dell'evento di presentazione del libro sull'Istituto Pomponio Leto. È importante, è importante credere nei giovani, bisogna partire dalla scuola e noi ci stiamo impegnando in tal senso. Il nostro impegno è quello di stare vicino alle nuove generazioni, di stare vicino a questi ragazzi che tanto hanno bisogno di fiducia, hanno bisogno di assistenza, hanno bisogno di persone a qui credere. Come banca, come istituzione crediamo che dobbiamo fare e dobbiamo fare ancora di più. Abbiamo avuto la fortuna di entrare in questa scuola, il Pomponio Leto, ma anche nella reggeria di San Tersenio, con degli importanti progetti che spaziano dalla legalità ad altri progetti culturali. Anche la manifestazione di stasera, i festeggiamenti di questo cinquantesimo anniversario dimostrano quando la nostra banca crede nelle scuole, nelle istituzioni e nei giovani. Come dicevo nel mio intervento abbiamo bisogno sicuramente di assistere i ragazzi che vivono un momento di difficoltà, lo vivono perché questo momento di crisi investe non solo i giovani in quanto tali, ma le proprie famiglie. Quando si vive in una famiglia con poca serenità i giovani ovviamente ne risentono e non sappiamo quali saranno le loro reazioni. Come banca, certo, stiamo facendo tanto, credo che vivere il territorio in questo modo è anche soddisfacente, per cui sicuramente la nostra banca è in feste, ma sicuramente riceve poi tanto in termini di ritorno, di soddisfazione. Anche il riconoscimento che stasera a questo istituto mi ha voluto riconoscere mi riempie ancora di gioia, quest'anno è l'anno di riconoscimenti per me, questo ne aggiunge un altro, sono felice, ma sono felice soprattutto perché viene riconosciuto a me, ma all'istituto bancario che rappresento ancora una volta l'idea che è una banca del territorio e che fa tanto per il territorio. Un bagno di emozioni veramente grandissimo. Se si pensa che io di questa scuola sono stato alunno, poi sono stato docente e poi sono diventato dirigente scolastico. Oggi veramente registriamo un evento eccezionale, grazie alla presentazione del libro del professor Giuseppe Manzione che ha raccolto e racchiuso i 50 anni di questa scuola, evento che si è potuto realizzare però grazie alla banca Monte Peruno di Rocigno, soprattutto nella persona del direttore generale Michele Albanese che come ormai noto a tutti è sempre sensibile affinché la scuola del territorio faccia progressi e investa sui giovani. E' la storia di oltre 32 anni vissuti a qui a Teggiano, ma in realtà ho conosciuto anche il primo decennio di cui ho fatto parte come insegnante nell'ultimo anno proprio nel 73-74. Quindi la mia è una testimonianza, cioè un ricordo da narrare perché intensamente vissuto. Sono fatti verità storiche che io ho vissuto e che certamente non posso mai dimenticare. La storia del Pombonioleto rimarrà sempre nel mio cuore. Quando dico mio vuol dire che mi appartiene, ma ognuno che ha lavorato in questo istituto può pronunziare lo stesso aggettivo. Rivivere questi anni 50 anni di questa istituzione ci permette anche di comprendere il grande percorso di formazione, di umanizzazione che l'istituzione scuola ha realizzato nel nostro territorio. In fondo la scuola è soprattutto lo sforzo di ricondurre a quella grande motivazione di interiorità per la quale il bene, il bello, l'impegno, il giusto, il vero, il sano diventano progetto di vita. Nella giornata di ieri, primo incontro della neonata associazione storiche e ruggenti per gli amanti delle auto d'epoca. Teggiano invasa da veicoli storici e i partecipanti ospiti del castello Macchiaroli. Teggiano invasa da auto e moto d'epoca ieri mattina con uno straordinario numero di rombandi autovetture di età storica che si sono fermate nella splendida piazza di San Cono nel centro storico della città medievale. Uno straordinario successo di partecipazione per un evento organizzato in pochissimo tempo dalla neocostituita associazione storiche e ruggenti presieduta da Rocco De Paola. Un lungo percorso che ha coinvolto centinaia tra auto e moto d'epoca e che ha visto partire il gruppo da Prato Perillo di Teggiano a attraversare località Pantano e quindi proseguire nel percorso toccandosi illa di Sassano, dove la pasticceria Peccati di Gola ha offerto ai partecipanti una ricca e squisita colazione per poi proseguire in direzione Sala Consilina, Atena Lucana, fino a giungere nella bellissima piazza di Teggiano. È la prima volta che lo facciamo e francamente siamo rimasti stupiti per l'afflusso di gente che abbiamo avuto. Non abbiamo dove mettere la gente, il ristorante è tutto pieno, non li possiamo neanche dare a mangiare, però è stata una risposta bellissima, quindi noi speriamo di farne tante di queste giornate così. Quando è stata costituita questa associazione? Ma è da poco, saranno da 3-4 mesi, perché siamo malati, malati di macchine d'epoca e i malati si cercano. Parlando 7-8 amici abbiamo deciso di formare questa cosa e abbiamo avuto una risposta travolgente proprio. Tanta cordialità da parte della gente, delle istituzioni, tutti che ci hanno dato una mano, abbiamo grazie all'arma dei carabinieri, ai vigili, grazie a tutti. Il percorso che è stato fatto? Siamo partiti da Prato Perillo, Vial e Sagrucure e poi siamo andati per San Marco, San Marco Silla di Sassano dove la pasticceria Peccati di Gola ci ha offerto una bellissima colazione. Dopo abbiamo proseguito per Sala Consilina, Sala Consilina, Atena Lucana e adesso c'è il Castello Macchiaroli che ci offrirà l'aperitivo e dopo saremo ospiti all'hotel La Marchesina. Nuova sosta al Castello Macchiaroli con la proprietaria Gisella Macchiaroli che ha aperto le porte del castello al fortissimo gruppo per offrire loro un aperitivo gustoso e caratterizzato da prodotti tipici locali. Il gruppo si è trattenuto al Castello Macchiaroli per circa onora, riuscendo così a godere della splendida location interna e le bellissime torri, aperte proprio per l'occasione, ammirando quindi il successivo paesaggio. Grande la soddisfazione dei tantissimi protagonisti, molti dei quali non avevano ancora avuto la possibilità di visitare le bellezze presenti nel castello. Vorrei fare un ringraziamento particolare alla signora Gisella Macchiaroli per averci offerto questa bellezza che abbiamo a Teggiano e a messa a nostra disposizione. Dopo l'aperitivo offerto da Gisella Macchiaroli il gruppo si è spostato nuovamente a Pantano di Teggiano dove il ristorante La Marchesina ha offerto loro il pranzo. Questa mattina è stata presentata l'iniziativa promossa dalla cooperativa Media Telecom per la realizzazione di un partenariato al fine di valorizzare l'oasi naturalistica di Rio Freddo. Una giornata di confronto e di riflessione tra istituzioni, operatori turistici e società civile si è svolta questa mattina a Rio Freddo a Buonabitacolo. L'iniziativa promossa dalla cooperativa Media Telecom ha avuto come tema centrale il futuro dell'oasi naturalistica di Rio Freddo nell'ottica di un utilizzo finalizzato alla salvaguardia e alla fuibilità sociale. La cooperativa Media Telecom punta a realizzare un partenariato sociale con operatori del settore sportivo, della società civile e associazioni culturali e si inserisce nel più ampio progetto di valorizzazione delle bellezze del patrimonio ambientale e naturalistico del territorio. La cooperativa editrice Media Telecom, che i molti conoscono più come la società editrice di Radio Alfa, è di fatto la proprietaria di quest'oasi che ha acquistato una decina da anni fa e ne ha fatto il recupero in termini ambientalistici, cercando di sottrarla a quella che fosse una gestione di carattere semplicemente privatistico e di utilizzo speculativo dell'area per trasformarla in quello che è un bene comune che dovrebbe essere utilizzato in maniera collettiva e condivisa con le associazioni sportive, con i club, la Caritas, le cooperative sociali, nonché con gli enti locali sul territorio. Il nostro obiettivo è appunto quella di salvaguardare questo bene che come si potrà vedere dalle immagini è oltremodo spettacolare, tra l'altro è una delle poche zone umide originarie rimaste nel Vallo di Diano. Questo è sicuramente un posto bellissimo, forse uno dei posti più belli di buon abitacolo e finalmente appunto come dicevi ritorna alla comunità, ritorna anche agli sportivi, ai pescatori e soprattutto può essere anche un'occasione per immaginare, per progettare un nuovo scenario in questa zona. Non mi nascondo che da tempo stiamo pensando ad una pista ciclabile che arrivi fin qui, quindi è una pista ciclopedonale che arrivi fin qui e che colleghi quindi questa zona di buon abitacolo che è molto bella e suggestiva con il resto del paese e quindi perché no una mobilità sostenibile, un luogo appunto immerso nella natura e che sia anche un po' diciamo una vetrina anche per tutto il resto del territorio. Sì, hai detto bene, è un'iniziativa davvero molto importante proprio perché nasce da un'iniziativa privata, la condivisione è uno dei valori che l'Egambiente cerca di portare sempre avanti, condivisione di progetti, condivisione di posti meravigliosi, recupero, mi dicevano prima che ci sono voluti quasi dieci anni per togliere tutto il cemento che circondava questo posto e adesso è stato restituito alla natura, come vedete un laghetto, queste si chiamano zone umide, le zone umide sono molto importanti da recuperare perché sono un serbatoio di biodiversità inestimabile, si trovano diverse specie animali, diversi uccelli che migrano sostano in queste zone e quindi recuperarle, restituirle alla comunità ha un valore ambientale davvero molto importante. Inoltre restituirlo alla comunità proprio come affinché la comunità ne possa usufruire, si può fare progetti sportivi, si può fare trekking, si può anche venire a fare una semplice passeggiata e si può appunto ammirare e apprezzare cosa offre il nostro territorio. Il punto sul weekend di campionato, iniziano i play-off e i play-out di eccellenza e promozione, in contemporanea si gioca in prima e seconda categoria. Se in promozione in eccellenza si gioca in questo fine settimana il primo turno dei play-off e degli scontri diretti play-out, discorso diverso per quanto riguarda gli altri campionati dilettantistici. Nel giro nel G di prima categoria siamo a meno tre giornate dalla fine del torneo e si presenta un turno favorevole sulla carta al Salernum. La capolista riceve il Rufoli in un match sulla carta agevole, mentre più complicati gli impegni di Audax, Salerno e Atletico per niente che giocheranno contro Santa Cecilia e Pro Colliano. Sarà una passeggiata di salute invece la gara esterna del centro storico contro il Real Taverna. Socia Simone Fierro è gara importante per i locali che vedono la salvezza ad un passo, mentre non può fallire il match esterno in casa del Vignale il Real Palomonte. Nel girone H di prima categoria fa ripuntati sullo scontro diretto tra Vigor, Castellabate e Cannalunga, una gara che può decidere le sorti del torneo con due settimane d'anticipo. Sulla carta invece match agevoli e senza patemi per Marina, Montesano, Pollese, Propalinuro e Rayon che affrontano Cardile, Contursi, Alfanese, Controne e Real Contursi-Terme. Nel campionato di seconda categoria a Gironenne, match di cartello tra Certosa di Padula e Rofrano. Le due squadre che occupano la prima posizione in classifica si troveranno al Comunale di Padula e la vittoria di una delle due potrebbe spianare all'altra la strada al successo finale. Spera in un pari il San Vito Sapri che non dovrebbe avere grossi problemi contro il Magorno, mentre match interni anche per Buonabitacolo, Sporting Sala, Consiline e ProAtena che ricevono Real San Giovannese, Sant'Arsenio e Caselle in Pittari. Nel campionato di terza categoria a Gironne di provincia di Salerno, match esterno complicato per il siciliano che sarà ospite dell'atletico montesano alla ricerca di punti playoff, mentre sulla carta garagevole attende il Real Postiglione che riceve l'atletico Palomonte. Per le zone di vertice sarà interessante la sfida tra Ursentino e Colliano, mentre in coda Aulettese e Montepruno-Roscigno ospitano rispettivamente atleti di Bacco e Ricigliano. Questa era la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito, auguro a tutti una buona serata.